e sempre il 12 luglio qui da Sherwood Festival la tempesta nella foresta abbiamo l'onore di avere con noi Enrico ciao ciao a tutti Enrico che in questo caso è ambasciatore della tempesta e ambasciatore di tre allegri ragazzi morti in questo caso si se ci fossero i problemi dei doppi ruoli nella musica come in politica sarei fregato ma a quel punto potresti fare un volta gabbana molto rapido tra un ruolo e l'altro oppure no basta togliere la maschera e divento tempesta la rimetto e sono un allegro ragazzo morto questo allegro ragazzo morto sta avendo delle esperienze molto particolari oggi è qui e domani di solito si direbbe non si sa invece domani sarà al di là di un muro non è una canzone di Luca Barbarossa non stiamo parlando di pallavolo stiamo parlando dello stadio Uganeo dove domani Enrico si esibirà con un'altra veste e la stessa maschera sì domani suoneremo così vicini che non ci si crede saremo dentro lo stadio oggi siamo nel parcheggio e niente insomma weekend padovano ma questa tempesta che vi permette appunto di spostare tutto il carico di strumenti salendo una simpatica collina quali colline quali ostacoli ha dovuto superare perché tutti vedono il lato positivo la tempesta è l'indipendente italiano che ce la fa è cool se uno vuole definirlo così lì è molto seguito però cioè deve essere anche difficile non deve essere solo quello che vediamo di bello che c'è fuori beh effettivamente sì diciamo la cosa che rende tutto facile è la passione nel senso che comunque le cose che abbiamo fatto sono sempre venute da da una passione semplice che è quella per i dischi una forma di amore puro e quindi non avvertiamo fatica né ci lamentiamo insomma non c'eravamo dati obiettivi quindi tutto quello che abbiamo raccolto finora è pulito e sano e non può che far piacere quello che la terra fa crescere cresce veramente bene anche per i tre allegri al di là dell'aspetto carrieristico diciamo delle opportunità che arrivano davanti a tre allegri ragazzi morti c'è anche un disco che sta andando molto bene l'ultimo disco che abbiamo pubblicato a dicembre è un bel disco per noi è uno dei più belli che abbiamo fatto e che dire insomma siamo molto soddisfatti direi che invecchiando miglioriamo quindi insomma ci abbiamo ancora margine di fare cose belle e a noi che piace il buon vino approfitteremo di questo buon vino musicale dei tre allegri ragazzi morti e della tempesta nella foresta in questa giornata di luglio che sancisce anche la fine di questo Sherwood Festival di Padova di quest'anno Enrico cosa porterai di questo Sherwood Festival in anticipo? Beh diciamo sono molto contento di essere qui perché è un festival bellissimo siete tutti molto bravi e la vostra professionalità è alta e quindi spero che questa sia una serata degna di essere la serata di chiusura di questo Sherwood 2013 grazie Enrico grazie tra le allegri ragazzi morti grazie alla tempesta ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti